Potatura straordinaria per le palme in piazza Matteotti e in tutto il centro storico Modicano. In molti avevano temuto il peggio, visto che gli interventi che hanno interessato altri alberi in altre zone della città hanno visto l'abbattimento completo delle piante. Semplice potatura che permetterà il recupero delle palme affette da punteruolo rosso, ha però rassicurato l'amministrazione. Una lotta quella contro il coleottero che attacca le palme, che mette in ginocchio le amministrazioni locali, alle prese con i problemi di sicurezza. L'ultimo caso è quello di una palma caduta su un'auto in sossa ragusa, che fortunatamente non ha avuto conseguenze tragiche se non per l'autovettura. Meno fortunata la donna che ha perso la vita, travolta da una palma in piazza Cutelli a Catania, mentre era seduta tranquillamente su una panchina. I cittadini modicani, anche alla luce degli ultimi avvenimenti, si schierano perciò dalla parte della sicurezza, ma in tanti chiedono anche prevenzione affinché si possa preservare gli alberi. Io non saprei rispondere per quale motivo è stato fatto tutto questo. Se a livello di sicurezza, penso che è una cosa più che giusta. Prima la sicurezza delle persone, quando c'è pericolo meglio salvare la persona. Se sapevano c'era il punto rosso, penso che la prevenzione era meglio. L'ultima ora le palme vanno tolte perché sono fradice ormai, perciò la prevenzione dice come quello, prevenire è meglio che curare. Si dispiace quindi anche per l'alberi? Certo, giustamente, ma gli alberi necessitano per noi stessi, perciò penso che sia una cosa più che normale. Ma se per prevenire che la palma muoia a causa del punterolo, penso che sia giusto fare così. Però non sono certo che sia il modo giusto di farle, di potarle in questo modo, togliendo tutto. Siccome c'è questo punterolo lì, c'è che sta sovranando tutti. Però stamattina l'hanno curato un po'. Sai che il ragù si è caduto? Anni di palme ci sono qua, giusto? Quindi è importante recuperarle prima? Speriamo che le possano recuperare. In caso fosse necessario l'abbattimento, lei sarebbe favorevole o è per preservare la pianta? Sempre riservare la pianta, perché le piante sono molto importanti, necessarie. Quindi prevenire? Certo, prevenire e curare. È sempre una cosa buona. Peccato, tutte queste piante si sono finite. Insomma, il punteruolo rosso, oltre ad aver divorato le palme del territorio ebleo, è dunque riuscito pure a dividere l'opinione pubblica. Grazie. 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 Grazie.